L'ottava edizione della mostra mercato del fiore dei sapori d'Abruzzo a Villareia di Cepagatti si apre in uno scenario caratterizzato da colori, artigiani all'opera, scolaresche in visita ai laboratori didattici e una filiera di produttori intenti a raccontare la propria arte. A partecipare alla tre giorni che si concluderà domenica 15 maggio col diretti, CIA, il comune di Guardia Grele, la camera di commercio di Pescara, Regione Abruzzo e tanti visitatori in cerca di atmosfere quasi dimenticate. La mattinata la dedichiamo sempre ai ragazzi, abbiamo ospitato ieri 20 classi e oggi altre 20 classi di ragazzi provenienti dagli istituti dei comuni limitrofi che sono molto interessati a scoprire questo mondo e il mondo anche dell'artigianato. Abbiamo agricoltori e artigiani che preparano e mostrano agli alunni delle elementari, delle medie e delle superiori come riuscire a realizzare un prodotto. Dalla produzione del miele magistralmente raccontata ai piccoli studenti delle scuole primarie fino alla realizzazione dell'anticarte del pane offrendo agli attenti ascoltatori anche la possibilità di sporcarsi le mani. Ad ospitare la mostra Mercato del Fiore l'istituto professionale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale che racconta in un weekend l'importanza di un mestiere antico e indispensabile come quello dell'agricoltore. Questo lavoro ci ha portato appunto al coinvolgimento di diverse associazioni di categoria, dell'ordine degli agrotecnici che adesso sta svolgendo proprio in questo momento un convegno dedicato all'agricoltura bio. Quindi un lavoro preparatorio che ci ha portato a questi tre giorni di mostra. Stiamo avendo una buona risposta dal pubblico e dalle scuole appunto.